ciao ragazzuoli allora oggi video vorrei farlo schermo a schermo pieno per farvi vedere le statistiche però ho visto ragazzi che il video con le statistiche che di fatto ha più contenuti e più numeri più tutto solo per il fatto che nell'antepima siano le statistiche è meno visto quindi mi dispiace comunque stare a sprecare tra virgolette anche delle riflessioni se poi non vengono non vengono seguite malamente mi piace di più mio faccione non so perché rispetto a vedere una schermata ma ci sta io ho fatto un esperimento secondo me aveva senso mostrare le mente ve le racconto le statistiche ma evidentemente mi piace di più seguire la mia perfetta silhouette e il mio bellissimo viso e l'altra parte non posso non posso certamente criticarvi per questo ci sta oggettivamente sono un gran bel vedere direi no scherzi a parte tornando a noi titolo è un po da ridere nel senso che ha detto ma costura uno righi che ce l'ha fatta perché perché mi sono messo a guardare le statistiche le statistiche edit map e i vari elementi relativi a ma costura ma ragazzi che ci crediate o no ci sono molte similitudini con orighi ma in realtà per quello che dico che ce l'ha fatta è quello che sarebbe potuto essere orighi se avesse fatto una buona stagione o comunque se avesse ha avuto altre altri numeri e altre poi diciamo prestazioni rispetto a quelle che ha fatto e invece turam per certi versi nascono nascono e nasce anche turam con una tipologia molto simile di approccio alla copertura del campo e alle azioni e poi invece c'è stata un'evoluzione del giocatore nel caso di orighi non c'è stata ma vediamo subito il dettaglio ora ragazzi io vi dico vi presento questa questa riflessione ma non so nulla sulla fattibilità o meno di turam sinceramente vi dico la mia secondo me non viene non viene perché da quello che sento lo stipendio se c'è di mezzo il pari san germain siccome finisce come il relato sanchez uno può fare parlare di obiettivi carriera tutto quello che volete ma quando ti sbattono in faccia il dinero tutto passa il secondo piano oltretutto l'offerta del minan oggi sentivo 4 4 e 5 mi sembra un po esagerata non credo che minan vada a dare più di quello che prendono dei 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 veterani lo spogliatoio comunque dei giocatori che sono lì da tempo penso un teonades penso un ragazzo che viene dal nulla e si va subito a becchiare praticamente quanto guadagna leao mi sembra un ipotesi un po fantasiose poi non lo so certo che che se fosse lui uno dei parametri zero acquisiti sarebbe secondo me tanta roba perché un giocatore che ha le caratteristiche per far bene anche se c'è diciamo quello come vi dicevo anche ieri è un incrocio tra il mio auspicio cioè di avere un giocatore che ha nella profondità e la caratteristica tipica del centravanti nel 4 2 3 1 di pioli lui può può dar peso ma può dare anche profondità che è una cosa che di fatto giro non può dare per forza per forza di cose vediamo allora un attimino perché secondo me è uno righi che ce l'ha fatta beh innanzitutto se voi andate su sofascora e proprio banalmente vi sovrapponete quella che è l'analisi delle caratteristiche dei giocatori il famoso pentagono che offre sofascora beh vedete ragazzi neanche a falla apposta sono praticamente sovrapponibili uno all'altro con la differenza che quello di turam è più sviluppato cioè allungato nella parte della della dei tributi d'attacco nella parte della tecnica pure e nella parte della creatività in realtà secondo me al di là di queste valutazioni tecnicamente origine valido e secondo me anche più valido di turam però questo cosa ci indica ci indica che hanno un modo di giocare simile e la prova ce la ridà se voi andate a vedere l'evoluzione della hit map nel corso degli anni proprio vi invito a farlo se voi potete andare su sofascora e nel selezionare la competizione l'anno vi propone di volta in volta quella che è la hit map cioè indicazioni a zone di campo coperte dai giocatori e vedete che più o meno a corrispondenza delle stagioni sia orì che turam hanno coperto una certa parte di campo nel senso che l'ultimo anno hanno si sono dedicati all'attacco mente prima erano sulla fascia sinistra sostanzialmente e voi vedete che nell'intensità della copertura del campo praticamente la copertura di turam è un'evoluzione è una diciamo un rendere più intensa la copertura di orichi perché se vedete sono sovrapponibili ma quelli turam sono più accese di colori che vuol dire che è un lavoro più intenso quello che fa nel coprire determinate zone ma di fatto si sono evoluti anche calcisticamente nello stesso momento sono passati dall'essere di fatto un'ala sinistra di peso di sfundamento come direbbe il buon avvantantuomo all'essere poi di fatto dei centravanti con una differenza sostanziale da qui l'evoluzione che turam ce l'ha fatta nel senso che è riuscito poi essere efficace in quella in quella soluzione mentre orichi a meno quest'anno no a darci questa se noi andiamo a vedere i numeri relativi a quest'anno beh non c'è non c'è molto da 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 dire se noi andiamo banalmente su il buon orichi adesso vediamoli nella copertura dell'itmap lui ha fatto sostanzialmente goal expected goal 2 ne ha fatti due quindi direi che è stata abbastanza questa questa è un'altra similitudine se voi vedete il numero di goal expected cioè quelli che ci si aspetta sulla base delle occasioni create tra orichi e appunto turam è praticamente coerente nel senso che orichi ha una previsione expected goal di 2 e 15 ne ha fatti due e marcus turam ma sostanzialmente anzi comunque aveva un 16 di expected goal e ne ha fatti 13 quindi mi verrebbe persino da dire che forse un po più nelle occasioni poi create forse quasi un pochino più efficace addirittura righi però in realtà a livello di goal è chiaro che c'è nella precisione c'è un po più di coerenza in orichi ma nella quantità siamo a due expected goal contro 16 quindi è proprio un altro livello sul piano dell'attacco pur avendo come ho già detto delle caratteristiche simili per dinamica dell'evoluzione del giocatore ha una media diciamo ma costuram di circa tre tiri a partita e di cui 1,5 on target cioè in porta mentre quelli di orichi sono 1,1 tiro per partita 0,4 nella nella porta le grandi occasioni fallite da orichi nel corso dell'anno in serie a sono quattro mentre quelle sbagliate da da turam sono 19 considerando però che ha il triplo del fatto dei tiri per partita rispetto a quello che abbiamo detto non ha a 4,8,12 si vedete che è un pochino di più impreciso rispetto a orichi però è molto più prodifico perché se noi moltiplichiamo per tre le grandi azioni sbagliate da orichi verrebbero 12 poi invece siamo rispetto a 19 è un po' di più quindi vuol dire comunque non è allora turam non è un cecchino ma questo lo sapevamo già quindi è importante che questo sottolineare per cui ho detto che è un'evoluzione di orichi un'orichi che ce l'ha fatta non aspettiamoci il centravanti puro il centravanti con il gol nel dna è un giocatore che da di fatto da la sta imparando a fare centravanti è ancora giovane ha due anni a due anni in meno di origini 97 contro 95 e quindi ha due anni di vantaggio sul per imparare a fare un nuovo mestiere di fatto sta imparando a fare un nuovo mestiere però sembra avere le caratteristiche per farlo dovrà ancora evolversi in questo è importante da 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 comprendere perché alla luce dei nomi dei numeri che vediamo c'è sì una difficoltà una capacità di di disegnare di andare a rete però anche una certa imprecisione in tal senso io come ho già detto mi piaceva un altro tipo di attaccante lui mi andrebbe bene però prepariamoci anche ad accettare una evoluzione del giocatore cioè pronti via non sarà il giocatore credo la venti gol alla stagione potrebbe però sulla luce della del salto che ha fatto diventarlo perché perché se noi veniamo a vedere il salto che ha fatto tra una stagione e l'altra è impressionante nel senso che lui nel 2019 e 2020 ha fatto 10 gol in 31 partite ottimo 29 partite 8 gol nel 2020 e 2021 nel 2021 e 2022 ha fatto 3 gol in 21 partite quindi chiaramente è uno score non non eccezionale però questa stagione ha fatto 13 gol in 3 partite senza rigori e questo secondo me è una cosa molto buona adesso si parla anche di eventuali sostituti non dovesse andare in porto Turam ho sentito il nome di Taremi del porto e sinceramente ragazzi in realtà è un ottimo finalizzatore ma non mi sembra il nome giusto perché innanzitutto ha 30 anni ha un 92 va per il 31 che farà luglio 31 anni ed è del porto sappiamo a scadenza del 2024 ma sappiamo quanto costa la boutique del porto quindi mi sembra un nome davvero cacciato di per caso comunque su Turam torneremo adesso non so approfondire non voglio neanche approfondire troppo perché non so quanto possa essere un nome credibile comunque vi ho detto la mia al dia di tutto più o meno vi ho spiegato quello che è la mia visione sul profilo ditemi la vostra nei commenti vi mando un abbraccio e alla prossima vi mando un abbraccio e alla prossima